Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, contribuire a rendere l'aria di Matera più respirabile, alleggerire le strade da traffico in Gorghi. Matera 2019 significa anche promozione della cultura urbana, della sostenibilità a favore di una migliore qualità della vita e per la formazione dei cittadini, a partire dai più giovani, quali soggetti attivi di cambiamento e di sviluppo locale. Ed è per questo motivo che nella città dei Sassi il servizio di trasporto urbano sarà gratuito per i possessori del passaporto per Matera 2019. L'iniziativa è frutto dell'accordo firmato tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e l'azienda di trasporti Miccolis SPA che dal 1 giugno consentirà appunto a tutti coloro che avranno acquistato il passaporto annuale di accedere gratuitamente agli autobus urbani della città di Matera fino alla conclusione del programma, fine 2019 con prolungamento a gennaio 2020. Il progetto che sarà illustrato nei prossimi giorni, annunciato il presidente della Fondazione Salvatore Adduce, parte dalla lodevole intuizione di alcuni consiglieri comunali sostenuto dal sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri.